Dall'8 all'11 giugno la nave scuola Amerigo Vespucci della Marina Militare farà sosta, dopo una lunga assenza durata ben vent'anni, a Palermo per rendere omaggio alla città capitale italiana della cultura 2018. La nave più bella del mondo, dopo la consueta sosta lavoro invernale finalizzata alla manutenzione e al miglioramento generale delle strutture, riprende così a navigare per svolgere la prima fase della campagna di istruzione di quest'anno con il compito di addestrare gli allievi volontari in ferma prefissata quadriennale della scuola sotto ufficiale di La Maddalena e al contempo portare in giro per il mondo i valori e la storia della Marina Militare e del nostro Paese. Durante il periodo a bordo, gli 82 allievi marinai, di cui 25 nocchieri e 57 tecnici di macchina, saranno impegnati in numerose attività didattiche ed addestrative nell'ambito delle discipline marinaresche e della formazione etico-militare, al fine di far propri valori di fedeltà, disciplina e senso del dovere e acquisire l'importanza del lavoro di squadra, che caratterizza oggi Marinaio nell'assolvimento dei compiti della Forza Armata al servizio della collettività. Dopo la sosta a Palermo, l'Amerigo Vespucci dirigerà per Civitavecchia e farà poi il ritorno nella città di La Spezia, dove parteciperà dal 19 al 23 giugno alla sesta edizione del Sea Future 2018, evento dedicato alle innovazioni navali e marittime di importanza strategica per lo sviluppo di opportunità di business per le imprese nazionali ed internazionali del comparto difesa. La navigazione proseguirà nel Martirreno con le sosta a Genova e Livorno, da dove a luglio gli allievi della prima classe e l'Accademia Navale inizieranno la campagna di istruzione che quest'anno li vedrà impegnati in Oceano Atlantico e Nord Europa per portare l'eccellenza del nostro paese all'estero.